ma in sostanza questo cacchio di bucatino da noi cosa vogliono 100 mila euro 15 hanno voluto la macchina 7 gliel'abbiamo dati sono 78 giusto io sono sono allora via principe di villa franca io volevo fare cucì poi puntino puntino no noi dovremmo aprire subito noi il polizio ti saluta te racconto un nome ci piace io si e dice il tema è quello della tenda che dagli la cuccheria dice in casa venga qui che ci cancio un nome ciao ciao ciao